RUSTI RUUlia io sono fab B launch CRI cri 登 ce l'abiamo E vai e andai PIL DEL FRANS, volevo pompare voi tra pan, ragazzi, per un ragazzo che fa i ragazzi, è un cretino, sapere che ci sono mille pere è una cosa bellissima, unandissima, e che tutte le persone si spezzano davvero, peto ancora, grado il cuore, ragazzi. Faccio questo video per parlare del pan di spagna arancio, ritorno con stigmate, dopo una crisi di crisi con contenuto, le persone commentano, le persone che mi STANO D'UN CAZZAO! Quasi verono valisi, quindi ragazzi preparatevi pan, c'è però, c'è, c'è, e adesso ci presso, io lo dicevo, prossima fermata, la prossata, io lo dicevo, prossima, c'è, mtari, era un progetto pensato, fallito, sul fallire questo canale, è una sicura, e io voglio decodecoder, non vuol dire rintacro, vuol dire semplicemente adottare deambro, quernica, ho capi, ragazzi, voi siete cagacazzi. Grazie.